Salve a tutti, in questo video vediamo come eliminare permanentemente il nostro account di Facebook, quindi eliminazione definitiva. Allora, dovete innanzitutto ovviamente loggarvi al vostro profilo Facebook e poi andare qua sulla freccettina Impostazioni. Ecco fatto. A questo punto, siamo qua in Generali, dobbiamo andare a Le tue informazioni su Facebook. A questo punto, qua in basso, dobbiamo cliccare su Disattiva temporaneamente o elimina in modo definitivo il tuo account, visualizza. Ecco fatto. A questo punto ci viene chiesto se vogliamo semplicemente disattivare l'account, quindi temporaneamente, il profilo sarà disabilitato, oppure eliminazione permanente dell'account. In questo caso noi vogliamo eliminarlo in modo permanente, quindi qua dobbiamo cliccare poi su Continua per eliminare l'account. Ovviamente in questo caso io non vado a cliccare. Quindi ricordatevi, questo è temporaneo, questo è permanente. Mi pare di ricordare che comunque in ogni caso Facebook dia qualche giorno di tempo per pensarci, però non ne sono sicuro, quindi state attenti quando fate, elimina permanentemente l'account. Quindi dovete essere sicuri, ecco, di volerlo veramente eliminare, perché non è detto che Facebook faccia sempre e continuamente questa cosa di darvi dei giorni di tempo per pensarci. Quindi niente, come potete vedere è molto molto semplice. Impostazioni e le tue informazioni di Facebook elimina account. Un saluto a tutti.